Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho decorato due stanze degli appartamenti reali del castello. Come vedete oggi mi trovo sulla barca volante vicino alla casa del mago perché proprio qui andremo a realizzare qualcosa all'interno della caverna dove c'è il meccanismo del teletrasporto. Giusto un paio di episodi fa ho realizzato questo meccanismo molto semplice per potermi teletrasportare a casa semplicemente utilizzando una canna da pesca. Se vi siete persi l'episodio vi consiglio di recuperarlo perché il meccanismo è davvero molto semplice e molto utile. Allora qua ci troviamo all'ingresso della caverna dove ho costruito questo meccanismo. Ebbene in live questa settimana ho sistemato la caverna perché se ben vi ricordate non avevo decorato nulla e ora vi faccio vedere il risultato. Questo è l'ingresso celato un po' da queste liane e poi qui c'è il meccanismo vero e proprio e questa è la nuova caverna. Avevo semplicemente realizzato un corridoio che raggiungeva il portale e adesso è tutto quanto decorato. Allora qui c'è la cesta, qui c'è la parte dove avevo il vecchio portale e qui questa nuova caverna super decorata. Ho lasciato questa atmosfera un pochino diciamo con poca luce perché mi piaceva davvero un sacco e ho rimpicciolito ovviamente la dimensione del portale facendo poi questa spaccatura all'interno della roccia. Secondo me il risultato è soddisfacente. Come vedete là abbiamo il meccanismo, l'abbiamo anche provato in live e funziona perfettamente e ora però voglio realizzare qualcosa di particolare. Sapete bene quanto mi piacciono i meccanismi di redstone e oggi ne voglio realizzare uno che non posso definire utile però mi piace davvero un sacco. Quando partiamo per una spedizione e quindi attiviamo il teletrasporto abbiamo bisogno di un mini equipaggiamento. Abbiamo bisogno delle ender pearl, abbiamo bisogno della nostra canna da pesca per ritornare ma per esempio potremmo anche avere bisogno di una mela dorata. Ebbene voglio realizzare un meccanismo proprio qua sopra che cliccando semplicemente su un hotblock ci dia un ender pearl, la canna da pesca e una mela dorata. Quindi ci equipaggi con il necessario per la spedizione. Prima cosa da fare realizzare lo spazio necessario per il meccanismo che non è piccolissimo ma qui ho notato abbastanza spazio per costruirlo quindi andiamo a demolire un attimino la parte qua della caverna e andiamo a fare lo spazio per il meccanismo. Ok qua c'era dell'acqua che era stata messa più che altro per realizzare un po' l'effetto delle goccioline che cadono nella caverna di umidità. Ovviamente questa cosa dovremmo toglierla ma andiamo però a fare tutto lo scavo. Ok lo scavo è pronto come vedete non mi smentisco mai perché questa è la parete della stanza degli incantesimi che sta dove c'è la zona del mago quindi siamo sempre appiccicati a qualcos'altro quando costruiamo perché c'è bisogno di spazio per questi meccanismi e questo devo dire che nonostante sia semplice ne ha bisogno di un po'. Allora andiamo innanzitutto a posizionare i dropper che ci daranno i tre oggetti che abbiamo detto. Quindi andiamo a mettere della cobblestone tranquillamente qua perché dovremo fare anche il meccanismo quindi così. Qua metteremo poi un dropper rivolto verso questa direzione va benissimo perché tanto ho fatto in modo che il note block quando viene azionato si sposta anche e quindi ci lascia lo spazio per far uscire gli oggetti dai dropper e questo ci avvantaggia perché i dropper sopra hanno e anche sotto una texture simile a quella della cobblestone e quindi sotto riusciamo a nascondere meglio tutto quanto. Qui mettiamo il nostro note block e poi qua possiamo fare così dove andremo poi a fare il circuito con la redstone. Poi qui ci serve un observer che guarda questa parte dove ci sarà un pistone che farà salire e scendere questo note block ma lo metteremo dopo. Poi ci serve un pistone appiccicoso qua e attaccato a questo pistone appiccicoso un altro observer questa volta verso l'alto così. Perfetto. Poi qua ci serve mettere della cobblestone e poi andiamo a mettere tutta la redstone qua quindi partendo da qua sopra così scendiamo qui andiamo a mettere così facciamo passare sopra i dropper e questo sarà il segnale che poi farà uscire gli oggetti. Ora qua ci serve della cobblestone che mettiamo qua ok poi ci serve un altro blocco qua sopra di cobblestone delle slab ne mettiamo una qui e una qui praticamente a questa altezza qui perché dobbiamo far salire il segnale di redstone là sopra quindi andiamo a mettere redstone qui e redstone qui in modo che il segnale salga qua sopra. Perfetto. Poi ci serve un pistone normale rivolto verso il basso qui vi dico che questo circuito funziona solo con la versione java di minecraft perché sfrutta una sorta di glitch non so se è un glitch o comunque una cosa voluta che un pistone se azionato con un segnale di redstone molto breve potrebbe rimanere allungato anche se non c'è un segnale che lo tiene in quella posizione quindi è un po' particolare. Poi andiamo a mettere un pistone appiccicoso qua un altro blocco di cobblestone qua poi metto un blocco temporaneo qui e da questa parte se ci riesco devo mettere e non ci riuscirò mai un pistone appiccicoso verso il basso quindi temporaneamente devo togliere qualcosa quindi tolgo questo e tolgo questo un attimo senza cadere giù magari e qua metto il pistone appiccicoso verso il basso così perfetto così posso rimettere il mio dropper qua e rimettere la cobblestone scusate la redstone qua sopra ok ci siamo ci siamo e questo ovviamente lo andiamo a togliere ultimi passaggi per questo strano meccanismo allora qua ci serve un repeater così con un tick di ritardo poi mettere altri due blocchi di cobblestone uno qua e uno qua e un altro qui e un altro ancora oltre adesso lo metto qua così perfetto lo mettiamo qua vedete che siamo arrivati proprio al limite e qua sopra dobbiamo andare a mettere qua della redstone quindi così così un altro di questi repeater con un tick di ritardo e della redstone qua ok togliamo tutta questa pietra che non ci serve e ragazzi lo strano meccanismo anche magico se volete quindi si addice bene a questa zona è pronto e ora dobbiamo un attimino fare qualche test a questo punto dobbiamo attivare il meccanismo per farlo dobbiamo togliere il note block così e andarlo a posizionare dove c'è il pistone appiccicoso ok vedete che sono successe cose ma una in particolare voglio mostrarvi e cioè il pistone appiccicoso qua che nonostante non abbia nessun segnale di redstone perché questa è disattivata questa disattivata rimane allungato ed è questa la particolarità di questo meccanismo ora cosa succede se io vado a toccare il note block questo si alza e i tre dropper si azionano quindi se io vado a mettere qui le golden apple qui vado a mettere la mia canna da pesca e qui l'ender pearl basta fare così e voilà cadranno dal cielo e mi arriveranno nell'inventario pronte per essere utilizzate magia forse però è un meccanismo davvero molto carino bene ora devo solamente rascondere un po tutto quanto ma vedete che alla fine con questi blocchi qua non è che si noti tantissimo andremo a rifare una parte qua della nostra caverna e vi faccio vedere il risultato finale ed eccoci qua lavoro ultimato ho sistemato la zona ho nascosto il meccanismo e l'ho anche spostato di un blocco perché non era perfettamente allineato con quello del teletrasporto e questa cosa mi dava fastidio in ogni caso vi faccio vedere il funzionamento vedete che qua c'è il nostro note block basta stare qua sotto fare così e voilà avremo la nostra canna da pesca la nostra ender pearl e anche la nostra golden apple pronti per partire nella missione poi se vogliamo ricaricare questi dropper qua basterà fare così quindi rimettere perlomeno la canna da pesca che sarà l'unica cosa che riutilizzeremo e saremo pronti per un altro giro prima di concludere ho un altro lavoro da mostrarvi che ho terminato in live questa settimana ossia tutta la parte sopra la montagna dove c'è il falò vi ricordo che le live sono ogni mercoledì venerdì e domenica a partire dalle 20 e 30 su twitch ed eccoci qua arrivati sulla montagna allora qui ho messo una catasta di legna che ovviamente servirà per alimentare il falò qui c'è un piccolo rifugio per i soldati che rimangono in questa zona ovviamente all'interno un letto qualche barile e una fornace e poi qua c'è la scala che ci porta in alto dove c'è il falò quindi saliamo qua sopra e voilà eccoci arrivati qui ho fatto questo piccolo pino solitario e qua ho decorato un pochino tutta la parte in alto e anche il falò come vedete ho messo questi campfire delle teste con la legna come se appunto questa fosse una catasta di legna ok direi tutto a posto e adesso devo tornare per i saluti finali e dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera in live su twitch a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti a questo punto non mi resta